Una domanda, per la zona lombare... Eh, stai un po' fuori di mano. Allora, fai una cosa, esci fuori, ti fai tutto il viale alberato, al semaforo giri a destra c'è una rotatoria, arrivi lì e chiedi. Sì, però non ci siamo capiti, io ho un problema, mi scricchionano i dischi. Ah, e quello può darsi che sono un po' rovinati, specialmente quelli in vinile. Passali in Mp3. Sì, ripeto, a me fanno male i glutei. Eh, non li mangiare, quello può darsi pure un po' di intolleranza ai glutei. Sì, ultimamente sono molte le persone che soffrono di questa cosa, non sei l'unico. Sì, però l'ultima cosa, io ho le ossa di un novantenne, che devo fare? Eh, lascio i reception, poi ci pensiamo noi, tranquillo. No, non ci sono problemi. Mi fido di te, ciao. Sì, sì. Grazie. Ciao.